Tradizioni e innovazione si fondono nel gruppo Pietro Curicelli di Spoleto. Come ci spiega il direttore generale Renato Calabrese? L'olio d'oliva è senz'altro un mercato complesso, soprattutto in Italia, dove la dimensione delle aziende molto spesso è insufficiente per affrontare le sfide del mercato globale. D'altro canto però è un mercato avvincente e ricco di opportunità. Sempre più consumatori in tutto il mondo si approcciano a questo prodotto, attratto dalle proprietà salutistiche, oltre che dal tocco di originalità e sapore che l'olio d'oliva riesce a regalare ai piatti delle tradizioni culinarie di tutto il mondo. Oggi l'export rappresenta il 70% del volume d'affari della nostra azienda. Questo, oltre che un piccolo motivo di vanto, naturalmente rappresenta per noi la molla per migliorare sempre nel profilo qualitativo e nella varietà dei prodotti che offriamo ai consumatori di tutto il mondo, con l'obiettivo di rafforzare la nostra immagine di alfile italiano della dieta mediterranea. Come avete affrontato le criticità della scorsa annata? Senz'altro gli eventi atmosferici hanno influenzato la quantità e la qualità della produzione. Tuttavia, in annate del genere, che può sembrare un paradosso, il ruolo di aziende come la nostra viene esaltato per la capacità di selezionare i migliori oli nel mondo e di offrire ai consumatori prodotti sempre di alta qualità e i cui profili di gusto sappiano incontrare i palati dei gourmandi di tutto il mondo. Un'azienda leader, come affronta le sfide del mercato? Per noi la parola d'ordine è fare cultura dell'olio. Vogliamo trasmettere l'amore che abbiamo verso questo prodotto ai consumatori di tutto il mondo per renderli consapevoli della qualità del prodotto, ma anche per cercare di fare in modo che siano maggiormente consapevoli dell'abbinamento del prodotto al piatto che vanno a degustare. Scegliamo di farlo in una maniera più tradizionale, coinvolgendo grandi chef italiani, piuttosto che partecipando a iniziative come Olio Officina. Ma anche un'azienda come la nostra si propone di farlo in maniera più accattivante, partecipando, proponendo ai consumatori un concorso abbinato a un importante fiction che gli dia la possibilità di visitare i luoghi nei quali c'è la nostra fabbrica, dove noi produciamo i nostri prodotti, in modo tale che possano concretamente vedere come avviene il ciclo di produzione dell'olio extravergine d'oliva.